E rieccoci qui ragazze e ragazzi sul primo Resident Evil, insomma Ce la siamo vista un po' brutta in qualche frangente, insomma l'episodio scorso è stato... Però dai, tutto sommato, anche se siamo a metà vita, non ce la stiamo cavando male, non penso Si spera, allora, beh, l'episodio scorso abbiamo preso il fucile, lì dove c'è la X sulla porta rossa Barry è intervenuto, il nostro soccorso che ci stava... il soffitto ci stava schiacciando E poi abbiamo finito praticamente di esplorare la parte destra della villa, 1F e 2F, almeno penso, si, dovremmo almeno in teoria Adesso dobbiamo esplorare la parte sinistra, perché io ho ancora la... ah no, l'ho depositata L'ho depositata per sbaglio, aspetta, non me ne sono accorto E no, dobbiamo prendere... dov'è? Ah, in alto, ah, mi è venuto un colpo, la chiave è spada, ok, ok, questi li depositiamo, visto che non ci servono Noi abbiamo solo due slot, piano piano stiamo anche bruciando gli zombie E va bene, e va bene, ok, usciamo Allora di qua abbiamo potuto vedere che dobbiamo usare il meno possibile sta porta, sta porta qui Perché la maniglia si romperà, allora Facciamo un attimo il giro Da qui Ok, ogni tanto c'è qualche tuono, va bene Giusto per mettere un po' più d'ansia Ok Allora di qua dovremmo... eh, di qua dovremmo Con questa telecamera ci sto litigando certe volte Dovremmo tornare all'atrio, credo Esatto, esatto Allora di là si esce e per ora non ci interessa Magari già che siamo su io darei un'occhiata qua Dunque di qua siamo usciti Di qua... si va, ho capito dove, sì Di qua... forse è chiuso, ok Andiamo di qui È chiuso, ok Emblema armatura, ci vuole Allora andiamo di qua Qua c'era uno zombie Lui non lo ammazzo, inutile che lo ammazzo Lo si può evitare tranquillamente Quindi... diciamo così Qua c'erano due porte, fammi vedere Uno è qua Ah no, qua c'eravamo... aspetta che mi devo ritrovare Sì, qua eravamo usciti Ah ecco, qua c'è una porta, vediamo No, dall'altro lato Quindi da lì si uscirà Fammi vedere l'altra porta qui Qua Ah ok, ho usato la chiave spada Perfetto Quindi qua Sicuramente Non abbiamo visto Ok Ok Ok, ci sono gli zombie È usato il grimandello Vediamo un attimo Qui Siamo fuori Qui cresce dell'erba verde Ce n'è abbastanza per più utilizzi Ah Sì, siamo... sì Ah, hai curato le tue ferite Bene Ah Un'erba... ma sarà infinita, non penso Secondo me dopo tot Ah, aspetta, riconosco la vetrata Qua è dove dobbiamo suonare Suonare Sì Fischiare col fischietto Una vetrata La sagoma centrale somiglia a una strega Sì Qua è dove dobbiamo Fischiare Col fischietto Per attirare il cane Che poi ci... Al collare Ha un qualcosa Un tesoro, pare Va bene Una specie di pianta spinosa che non hai mai visto prima Eh, cresce solo qui Sarà geneticamente modificata pure quella Eh L'hai aperta Andiamo Ah, aspetta Ah, siamo ritornati nell'atrio Ok Vi ha sbloccato... va bene Va bene Vi ha sbloccato sta porta Va bene Allora andiamo là dove c'erano gli zombie Quindi, eh, qua aspetta un attimo A parte che dovrei tornare indietro a prendere il fischietto Che adesso non ce l'ho Però fatemi un attimo vedere prima in giro Però devo ricordarmi che lì c'è una zona di cui Diciamo Magari quando non ho le piantine Ok, aspetta Dove sei? Dove sei? Ah, è lì in basso Ma che sta... Forse sale? Sì, sta sale dove? Aspetta, aspetta Metto qua Quando sa... No No Gil, mettiti bene Girati BG, girati Girati Girati... No, così Aspetta Ok Veloce, veloce Ok, vediamo qualche colpettino Glielo diamo Ma che ce n'è un altro Uno glielo ho dato di colpetto Uh, bene Beh, molto bene Molto bene Quindi lui Non vive più Aspetta E qui e qui Lo sento Io vado prima di qua Poi vediamo Oddio Ah, ho premuto Sì, sto spremendo Praticamente Come ho già detto Due episodi fa Credo Su ogni... Ah Una stanza sicura Ma dai Ma dai Con la sca... Ah Bene Qui ci sono diversi tipi di sieri Molti hanno un colore disgustoso Vabbè Basta che siano efficaci Letto logoro La macchina da scrivere No ma non salvo Non è che macchina da scrivere Se avessi un nastro in cui potrei salvare Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Questo scorpion di pillole delisir Non hai... Che non hai mai visto Molti hanno cambiato colore Aspetta Ah, qua non c'è niente A parte la macchina da scrivere Allora, aspetta però Io prima di Usare il fischietto Eccetera Io vorrei Usare Dappertutto Sta chiave Ok Devo prendere Beh, devo prendere i colpi Ecco Ok Allora Io farei fuori l'altro zombie Anzi Questo qua davanti Vediamo Quello che abbiamo visto prima L'ho visto in un attimo Questo qua sembra E ci passiamo attraverso Secondo me Non Cioè È morto Però poi Al cento per cento Se si rialzerà Eh sì Non gli facciamo nulla Ma sicuro Cioè Ce lo presentano così Quindi io gli darei fuoco Ecco Ok Ok Qui Ci sono delle casse in legno Sono coperte di sangue Ci sono delle casse in legno Sono coperte di sangue Ah, oddio Ma pensavo ci fosse una parete Va a vedere la mappa Eh no Ok Quindi c'è lo zombie in alto Cos'è Le foto Contiene solamente prodotti per la casa C'è un odore C'è un odore leggermente sgradevole Ma qua puzzerà tutto Allora il odore sgradevole Cioè Qui Ho usato il grimandello Eh, queste inquadrature Però Non mi fanno vedere cosa c'è dopo Cos'è questo Batteria Aspetta Aspetta Prima di prendere cose Ah Eh Immaginavo Fucile fuori uso Ecco Ecco Vedi Ma allora scusa Cioè Questo qua non mi serve più Inutile che lo prendo Perché ci ha salvato Barry Scusa Cioè se ci ha salvato Barry Però ci danno Il fucile Finto Vuol dire che poi Cioè Non lo so Non Non mi quadra Qualcosa non quadra A meno che è un anticipo Di ciò Che dovrà prendere Chris Tipo C'è ancora molto Che rosene No No Aspetta Oh Beh Questo Questo lo prendo Questo lo prendo Sicuro E ora dai Prendo anche la batteria Ma non c'è Non c'è nient'altro Qua E no Vabbè A parte che Finché non prendo tutto Non diventa No Clicco Ma No Cioè allora Se con Jill Perché Come per il Resident Evil 2 Remake Sicuramente Con i due personaggi Qualcosa cambierà Quindi se Mi viene da pensare Se magari Con Jill Barry ci ha salvato E quindi salvandoci Ci siamo tenuti Il fucile Lo stesso Nonostante Il meccanismo Nonostante non abbiamo Disattivato il meccanismo Magari con Chris Dovemmo venire qua E prendere questo fucile A meno che Non lo so È come un po' Anche nel Nel 2 Poi alla fine Le due linee temporali Erano un po' strane Cioè Però Boh Vabbè Prendiamo la batteria Eh Aspetta No l'ho presa la batteria Perché non c'è Non c'è qua Solo vecchi mobili Sì l'ho presa Allora dov'è Ah Ha pistola stordente Esamina Oggetto di autodifesa Potrei stordire il nemico Lasciandolo temporaneamente Disorientato Ah Quindi noi Il taser Ce l'avevamo già Ma si arriva La batteria Sì ma scusa Cioè tu Tu vai in giro Col taser Scarico Cioè Cos'è Non ha molto senso Vabbè Vabbè Ok Quindi tutti aspetti Che trovi in giro Le pile Vabbè Emblema armatura Ok Quindi qua non si va Qua non si va Allora Torniamo su Un attimo No Aspetta Prima Vabbè Nel caso Con Chris Sappiamo già Cosa dobbiamo fare Almeno Perché penso che Un po' come nel 2 Che affrontiamo Le stesse ambientazioni Magari Con qualche variante Ma penso che Per lo più Siano Siano gli stessi Livelli Ecco Non penso che Rifai Un gioco nuovo Cioè non so Comunque Beh abbiamo un bel po' Di nastri Inchiostratori Poi vedremo Un problema futuro Ok Allora Io andrei ad ammazzare L'altro Visto che Mi sa che è proprio Dove dobbiamo È qua Però la telecamera Non me lo fa vedere Anche se senti passi Aspettiamo che viene Tanto lui viene Io lo so che viene Mi sto così Eccolo Eh già è andato giù Aspetta Via Due coltellatine Poi Ok Questo Questo io gli do fuoco Allora io gli do fuoco Ok Vai E Ok Così qua la via è libera E Torno qua E uso il Cherosene Che c'è qua Guarda facciamo una cosa Ci abbiamo Sì Due slot Liberi Allora Prendiamo questo Così Così la stanza Mi diventa Tutta Madonna La telecamera Ok Sì Sì Si riempio Ok Grazie Vediamo Esatto Così la stanza Mi diventa Siamo pulita Ok Sto meglio Ok Quindi adesso Fammelo esaminare Pertosità Fucile fuori uso E rotto E non spara Forse può essere usato In un altro modo Eh sì Lo so dove andava messo Eh Lo devo fare così Per ricordo Ce lo Ce lo prendiamo Ok Ho usato qualche colpo Sì Perciò Faccio così E poi Depositiamo Questo Ecco Perfetto Sì Aspettiamo Fischetto Aspettiamo Faremo Faremo Io Prima di fare Qualsiasi cosa Voglio aprire Come ho detto Tutte le porte Con la chiave di spada Non c'è nessuna E Emblema di enelmo Va bene Qui L'hai aperta Dove andiamo? Oh Ah ho capito Dove sono Sì Ah già Sì Forse qua Non avevo ancora Il cherosene Ah c'era la piantina Due piantine Ma lui c'era Allora guarda Aspetta No dai Li brucio Dai Io c'ho paura Che dopo si alzano Allora facciamo così Prendo la piantina E farò un attimo Avanti e indietro Ma pazienza Dai queste le prendo Visto che non ne ho Ok A te ti brucio Malamente Oddio Santo Si è alzato Madonna Ok Ma non è un zombie Non è più una bestia Cos'è? Qui c'è un'altra piantina Ah i corvi Pensa a te Vabbè Qua c'era un'altra piantina Sto lasciando da qua Non ho posto Allora aspetta Aspetta Bastardo Quindi lui era già programmato Per alzarsi Dove sei? Che non vedo No eh sì Ciao Ho mosso la levetta analogica Dove sei che non ti vedo? Sei qui da Aiuto Sei qui avanti? No ma dove miri? Ma perché mira di là? Vuoi dirmi che è di là? Eh no Aspetta Facciamo così Ah non Ah eh sì Ah ok Quindi lei Mira in Cioè mira in automatico Dove si trova lui C'è lo zombie Ecco perché si mira di là Eh sì però Cioè C'ho paura Ah Aia Ma è velocissimo Questo Madonna Che spavento Ma è veloce Ma cos'è? Aspetta Siamo No Siamo sempre su ok Io a questo Io a questo gli do un colpo di fucile Non riesco a La pistola Aspetta un attimo Io poi devo ritornare di lì Tra l'altro Questo era già a terra Ehm Dall'inizio Aspetta E non Il fatto è che non so se è qui Perché non lo vedo Lei mira qui Ma non vorrei sprecare il colpo Sai E prima Mamma mia Eh non so se ne ho usati davvero tre Senti attenti Posso dare fuoco? Posso dare fuoco subito? Ah sì sei morto Eh ne ho usati altri tre Qui in totale ne abbiamo sei Mamma mia Eh non so se il primo è andato a vuoto Non fa niente Ah e ti brucio anche Oddio Aspetta Aiuto Ehm Via 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 Eh gli stavo dando fuoco a lui Ma Aspetta Oddio Dove sei? Madonna Santa Sì ma Questi Questi qua Quindi Allora L'altro L'avevo ucciso Ma mi sa che non avevo Il Il Cherosene Quindi per quello Ho rimasto lì Però se dopo che si risvegliano Sono così veloci Io li brucio tutti Cioè Cioè qua devo usare per forza Il fucile Non la pistola non gli farà Non faccio in tempo a sparargli Con la pistola E Al diavolo Io uso il fucile Devo passare Cioè Pazzarola Vediamo Aia Aia No Eh merda Sono uscito Ma spero Spero non si sia resettata Anche la vita È venuto automatico Porca vacca Cominciano i problemi Senti un colpo di fucile Te lo do L'ultimo rimasto Ok Ok Non mi interessa To 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 Brucia Eh sì Vanno Il fucile Scarico Vado a prendere tre colpi Adesso La vita Ah siamo su attenzione Allora prendiamo una piantina Ecco Mamma mia No no Qua Difficile Non sarei andato avanti Anche per me Che Diciamo Per quanto Cioè funzioni Alla fine Aspetta che Mi sono perso La tensione mi fa Mi fa capire Ok Ok mi sono ritrovato Ehm Per quanto Alla fine funziona Non è che Un sistema Che non funziona Però Comunque Non mi trovo benissimo Ovviamente Ma è fatto apposta Per aumentare Penso la difficoltà Poi non so Magari anche Per una questione Di tecnologie Probabilmente allora Non so Non potevano fare Altrimenti Adesso Non lo so No Ho fatto bene A scegliere normale Penso sia la difficoltà normale Poi quella che ho scelto Allora così Poi prendo Le ultime tre cartucce Sperando Insomma Di non sprecarle Ehm Vado a riempire La cosa Sì sì Allora io Do fuoco a tutto Do fuoco alla villa Cioè Eh Aspetta Eh ciao Qua Se La seconda volta Che loro si rialzano Diciamo Sono così forti Non oso immaginare Se Cioè Se tornassero su Un'altra volta Cioè Boh Spero di no Io gli do fuoco Per sicurezza Tutte Cioè Se ti vengono su tre volte Alla terza diventano Boh Delle bestie Aspetta Allora Aspetta Fatemi però un attimo Ricapitolare Dunque La niente Abbiamo detto Che Ah no Era due F Vero Sì Aspetta Giusto Qua siamo al secondo Sì Vai di là Lì c'è la piantina Di in basso Ok E sulla destra Vai dove c'era Quella trappola Questa qua Che però Non abbiamo nulla Con cui sostituirla Quindi Cosa manca Da vedere Forse qua in basso Che quanto spazio Abbiamo Quasi quasi Io quella piantina Me la prenderei Sì Ok E dovevo provare Se cosa E Mi è venuto in mente Adesso Cioè tipo Quando sono morti Entrare e uscire Se il cadavere Rimaneva Vuol dire Che dovevo Dargli fuoco Se no No In questo caso Magari ho buttato via Proprio due Due fiaschette Di cherosene Ma pazienza È una blind Alla fine Perciò Non lo so Ok Prendiamo questa E così abbiamo Uno slot Io mi ero curato Sì Mi sono Dimenticato Di essermi curato Poi andiamo di qua Qua dovremmo aver Esatto Liberato E Di qua Sbucchiamo Dove Sbucchiamo dove Si era Alzato Dove c'era la prima volta Lo zombie Od Oddio 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 È vero Anche questo Anche questo Non gli ho dato fuoco Perché non ce l'avevo Ma E io devo passare di lì Porca vacca Come facciamo Non volevo usare ancora il fucile Volevo tenermeli Quei tre cose Però forse Cioè Però forse Da quello che ho visto prima Secondo me La vita Cioè loro si resettano Ma la vita Rimane quella Quindi se io sparo E vado via Lui si resetta Quindi torna Al punto di partenza Io rientro Aspetto che si avvicini Gli sparo A furia di far così Forse Forse va giù Forse va giù Cioè Vediamo E io però Non lo vedo Guardalo 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 Cioè Sì Vabbè Tre ore A sparare Aia Fa niente Usiamo la piantina Sì No Ci siamo lenti Non so cosa Cioè Uno Uno sparo Cinque secondi Vabbè Usiamo Mizzega Ci ha ferito Di brutto Allora Facciamo così L'importante È che gli do Uno sparo Solo E vado via Via Me ne vado Vediamo Io continuo così Adesso Eh sì Vediamo un altro No se faccio fuori Tutto il caricatore No Allora Devo usare il fucile Guardalo 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 Com'è Com'è Agguerrito Eh no Esco Dagli ne due Da Almeno Non uno Devo essere Però veloce Entro Vado Sparo E torno Vado via Anche tre Dai È stato più veloce Sto giro Eh ma questo Forse va giù Più difficile Mene Adesso vediamo 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 No Quelli di pistola Magari posso anche Sprecarli Ma Quelli di fucile No Oh non Non va giù Non va giù E io ho finito i colpi Praticamente Cioè Vabbè senti Usiamo sto fucile Quanti colpini sono rimasti Due Usiamo il fucile Non volevo usarlo Ma Non ho scelta Io di qui Devo passare Niente Partito Niente Oh Ma che cavo Ti ci vuole Per morire Aia Aia No Mi ha preso Alle spalle Stronzo Sei morto? Non vedo il sun Sì Sì Ok Ok Allora adesso Ne approfittiamo È fixo Non ho più niente Sono su pericolo Madonna Madonna Allora Facciamo sta prova Entro ed esco Se lui rimane lì Lo brucio Se no No Meno faccio sta prova No ok Ok Allora prima gli ho sprecati Lui è sparito Quindi Una volta che gli uccidi due volte Basta Senti ma lui posso dargli fuoco Perché Secondo me Perché non è necessario Sì che è necessario Lo dico io Questo qui Si Si animerà Si animerà Niente Niente Con l'accendino No Niente Ah che gatto C'è Vabbè Va bene Va bene Possiamo andare Solo Possiamo andare solo avanti E' chiusa la chiave qua Con zero colpi Le armature Beh Va bene Qua Oh Oh Questa chiave non serve più Si Quindi te lo dice Meno male Però Io prima di entrare qui Me ne torno indietro Almeno Ok Devo prendere Torno indietro E Aspetta Una piantina ce l'avevo Però Eh Però Fammi vedere L'unico punto Dove ho lasciato Le piantine Da tutt'altra parte Dovrei Tipo andare là Prendere Prendere Le piantine Però c'è il cane Scappare E Curarmi Però Fide Se entro così Aspetta La prima cosa Facciamo così Dai Usiamo Cioè Torno indietro Torno al baule Torno al baule Una piantina dove ancora averla E la uso Prendo i colpi Il fucile Sì di qua Lo deposito Perché tanto Non ho più colpi Quindi inutile che lo porto dietro Che occupo uno spazio Per niente Se trovassi dei colpi Li prendo E poi La prima occasione Riprendo il fucile Ok Però È difficile È difficile Cavolo Non sei per niente Sei legnoso Non so cosa Allora Prendiamo 15 colpi Comunque non ne ho molti Neanche della pistola Se vogliamo vedere Quindi Ok Così Prendiamo L'erba verde L'unica che abbiamo E la usiamo Ok Almeno siamo su attenzione Dai Poi alla prima occasione Adesso vediamo Devo andare di là E Prendere quelle maledette piantine Che sono difese Dai cani O dal cane No Ce n'era uno solo No Aspetta No No Ok Ok Allora Andiamo a vedere lì Cosa c'è Porta che ho aperto Era di qua Sì Beh però Almeno abbiamo ripulito Dalmeno questo Adesso Non Non c'è più nessuno Ma sicuramente Ritornerà Magari da qualche finestra Eh Figurati se Se ti lasciano Senza zombie Qua adesso La telecamera Mi fa andare Dove non voglio Non è Ma niente Ok Allora era qua in fondo Andiamo lì in basso Vedere cosa c'è Ah per un Cos'è che si muove Sono questi insetti qua Forse Spero di sì Una serie di spezzi Che non hai mai visto prima È chiusa a chiave Dall'altro lato Pezzo di carri Natura Non ho identificato Oh guarda Qui c'è un pugnale Lo vedo Cos'è Lo vedo Guardalo Ah è infatti Ok vedo Ho visto anche un caricatore Bene Bene Sì lo prendo Bene Un pezzo di carri Natura non ho identificato Che schifo Cioè i piatti pubblicano di vermi Aspetta Di qua Ecco Ecco Eh te ti do fuoco Ma sì Il generatore Non sembra funzionare Meno male Non si è alzato Guarda Ecco Ok Addio Eh Che quelli già a terra Poi diventano super cattivi Che succede Vabbè G dai Basta Cioè tre ore Che vedi zombie Su Cioè Si caga addosso Allora Tu sei entrato Ma io ti lascio così Cioè Allora Forse Se non ti uccido Tu rimani così Per sempre Dico bene Qua possiamo evitarti E ci salutiamo Visto che qua Eh no È tutto bloccato Va bene Mangiati i vermi Ti saluto Ok Ok Ah è vero Ah è vero Cavolo Mi è venuto in mente Adesso Avevamo Volendo La cura Sul dove c'è Il balcone Eh vabbè Pazienza Pazienza Però Quindi adesso Se non Allora Allora Lì due porte Sono chiuse Quella è chiusa Eh Lì mi Ah Ah La chiave di spada Non ce l'ho più Quindi in teoria Abbiamo aperto tutto Con la chiave di spada Adesso ci vuole Quella dell'elmo E quella Dell'armatura Per andare avanti Quindi Allora Faccio così Torno Torno indietro Salvo E usiamo Il Il fischietto Sul balcone Lì Ok Ok Sì Nel 2 Erano cattivi Gli zombie A me che anche nel 3 Se vogliamo Più che altro Resistenti Ma qui Cioè È stato Peggio Peggio Fede Dopo che Tornano in vita Cioè Hanno il power up Praticamente Diventano velocissimi Non so Allora Vabbè ma qua stiamo bene Dai Stanza sicura Ok Dunque quindi Questo lo depositiamo Prendiamo il fischietto E prendiamo E salvo Sì Fa niente Non metto a ricaricare la partita Per cercare Ah ma qua c'è Una vecchia No No aspetta un attimo Questo non è un documento Questo qua Appeso No eh No Va bene Lo salvo Sì no Non mi metto a ricaricare la partita Per cercare di far meglio Non ci penso Minimamente Va bene così Dai Alla fine Vabbè Colpi pistola ce li abbiamo Ci manca il fucile In certo senso ci manca il fucile Ah ma dove sto andando Aspetta Devo depositare il nastro Eh Ok Allora depositiamo questo Ok Allora era qua fuori Se non ricordo male Però adesso come fischierò Quello avviene Eh ovviamente Eh Essendo un fischietto per cani Allora Beh tanto ho salvato Ho salvato Quindi così cosa accada Moriremo forse per la prima volta Visto che ce l'avrà al collo Il collare E magari dobbiamo pure ucciderlo Per prenderlo Sicuramente Eh Allora Siamo sani Eh dunque qua era La foto Faceva vedere qua Eh Usa Hai usato il fischietto Perché lo sento Bastardo No No Aspetta Ah è morto Ah è morto Ma No C'è suo C'è suo fratello Fammi andare via Probabilmente questo fischietto per cani Non ti serve più Abbandonarlo Sì Ok È arrivato il suo fratello Bastardo Sì Non mi ha tolto Mi ha tolto pochissimo Però Vabbè è morto quasi subito Perché forse gli oggetti Questi qua tattici Gli fanno comunque del danno Quindi Ammazziamo il suo fratello Oppure lo lasciamo lì Tanto non è che ci frega E infatti Guarda Prendere il collare Sì Cioè alla fine E infatti La zona è completata Qua mi devo ricordare Che eventualmente C'è la cura Però Se entro Da questo lato Entro Faccio un tempo Mi sa Perché lo sentivo lontano Adesso Ora che arriva Mi curo E vado via Dove farci Però fa niente Non è un problema Adesso Quindi Io me ne vado Lo lascio vivo Che se ne frega Ok Sparmiamo qualche colpo Almeno Allora Fammi vedere il collare Collare C'è un interruttore Sì Il collare Ha nascosto Un piccolo emblema Un piccolo emblema Non c'è niente Di insolito Ah Ah Assunto la forma Di una chiave Imitazione Di chiave Ah Vedi Vedi Questa va messa Sì Ma non è abbastanza Assunto Alla forma di una chiave Ma non è abbastanza Rigida Per poter essere usata Sì Sì va messa Sì va messa al posto Dell'altra E l'altra Cioè di quella originale Quella originale Ah è qua sopra Ok Ok Sì facciamolo subito Aspetta Era di qua Oh madonna Ogni tanto Vado in confusione Facciamolo Era No di qua Era di qua Ok Qui non c'era nessuno Vale No Infatti Ok Quindi adesso Prendo Questa Sì E metto l'altra Ok Imitazione Usa Boh Fregato Quindi adesso Abbiamo la chiave Armatura Ok E mo Dobbiamo vedere Aspetta Di qua No Qua ci vuole L'emblema elmo Quindi niente Fa vedere Perfetto Perfetto Quindi qua Non c'è nient'altro E mo Devo rifare il giro Eh sì E che Vai a ricordarti Dove era Cioè Vabbè Già che siamo qua Magari il giro Lo facciamo qui Adesso Prima di spostarci Dall'altra parte Allora Aspetta Perché qua Si torna Di lì E poi lì Dove c'è la macchina Da scrivere Quella in basso Va bene Ok Poi si va Alla cucina Lì in basso Va bene No Io vedrei Aspetta Vedrei Ah c'è una porta Ah giusto C'è una porta Che non ho toccato Perché quell'altra È chiusa Va bene No Vedrei Qua Vediamo prima Qua Aspetta Qui dovrebbe essere Libero Non sento versi Quindi Questa Ah questa è chiusa Dall'altro lato Poi qua Sbuchiamo Dove Qua sbuchiamo Sopra Cos'è la sala Da pranzo Forse quella In basso Allora no Allora andiamo Di qua Torniamo Vicino Dove c'è la macchina Da scrivere Cos'è sto suono Perché mi fate Preoccupare Oddio Santo È chiuso È chiuso È chiuso È entrato È entrato Ma da quando Aprono le porte Aspetta Fatevi entrare Qua dentro Un attimo Cioè no Sì Aprono le porte È vero È vero Non so perché Mi è venuta così Vabbè Comunque Già che sono qua Carico Ok Cioè speravo Non lo facessero Non fossero così Intelligenti Essendo il primissimo Gioco Vabbè Adesso tu dove sei Anzi Anzi no Aspetta Prima di andare Da lui Che però Vediamo Se si può evitare Sarebbe meglio Vediamo qua Ok Vedi Intanto qui No Chiave della villa No Ah perché Non l'ho esaminata Ok Per esempio Non ci sia una forma Di armatura Cioè finché Non la esami Non ti dice Ok Intanto qua C'è da vedere Un'altra batteria Perfetto Sì Qua siamo dove Ah vedi Dice tutta una serie Di porte Da visionare Ok Ok Aspetta un attimo Devo ritrovare Quella lì La macchina da scrivere È lì È lì Ah lì C'era una porta chiusa Ma avevo cliccato Ma ho cliccato Un po' velocemente Oppure no Vedete che non mi ricordo Se ho cliccato Su quella porta Vabbè Comunque vabbè Lo zombie lo lasciamo Lì vivo Tanto Se è vivo Non dovrebbe Diventare aggressivo Porca Perché 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 Mi fate cagare addosso Questo suono Qui ho aperto Una porta No Perché c'è silenzio Non c'è musica C'è niente Ci sono rumori strani Ecco Aspetta Qui c'è un caricatore Però Fammi vedere Fermi tutti Questa È una stanza Chiusa Quindi Prendiamolo Sperando non si alzi No Cosa c'è Lì dentro No No Non volevo cliccare Ecco Aiuto Aiuto No La telecamera La telecamera La telecamera La telecamera C'era qualcosa Non ho visto bene Però purtroppo Mi sembrava Una batteria Ma Non ne sono sicuro Mi sembra Non so come ho fatto Evitarli Ve lo dico Ma io lì dentro Non ci torno Dai Su No Non volevo cliccare L'armadio Lì Stavo cliccando La pareta Sì No Per una batteria Non credo Ne valga la pena Al limite posso Fare così Tipo Salvo Purtroppo che ho salvato Torno qua dentro E se muoio Chi se ne frega Tanto ho salvato Quindi Quindi adesso No L'hai aperta Vedere Adesso Non ci torno Ah ok Sì Siamo tornati Sì 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 Ho capito Ho capito No Torniamo di qua Ok Qua Ah c'è un coltello Va bene No non Veramente non so come ho vato a sfuggire Perché poi la telecamera è impazzita Come Cioè impazzita Non riuscivo più a capire da che parte andare Eh Oddio ho detto Che cos'è C'è un'inscrizione Una tigre sfolgorante Di luce blu e gialla Tigre sfolgorante Ci vorrà mica la gemma Forse Blu e gialla Quindi magari ci vuole gemma blu Gemma gialla Ah è proprio uno stanzino Sì esatto Uno stanzino Vabbè Devo vedere Qua c'è sempre Sto suono Cavolo è Guardalo Guarda Ti vedo Ti vedo Adesso come passo Questo entra Vado la Vicino al muro Ce n'è un altro La Forse si Vado piano Vado piano Oh Questo posto Il coperchio di questa pompa dell'acqua È aperto Pompare No No Cosa tocchi Cosa tocchi Oddio Cos'è sta roba Ma È una pianta Ah Forse serve Il Coso Il Mi viene in nome Qua servirà Il Prodotto Per uccidere le piante Secondo me Dove siamo Siamo qua È una stanza chiusa Sì Io me ne vado Me ne vado Calma Guarda 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 che adesso Questi qua sfondano Io mi muovo piano Guarda 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 Che fero Eh Sì Ecco Ok Sono passato Indenne Il candelere Lucica Gelido Il chiaro Di luna Allora Adesso Quindi io prenderei Aspetta Esatto C'è È vero che qua c'era lo zombie Beh però ce la posso passare tranquillo Tanto non è sceso A posto A posto Allora Faccio questo esperimento Prendiamo La chiave ce la teniamo Questo lo depositiamo Ah no Aspetta Aspetta un attimo Così Li uniamo Ok Poi Prendo la gemma blu E le erbicida Ecco Andiamo a vedere Se per caso La gemma serve davvero Oppure no Io lì passerò sempre Camminandoli Non mi azzardo A correre Perché non vorrei che magari anche correndo Gli attiro E quindi sfondano Vediamo Sì Fammi vedere Usa Perfetto Ah bastava solo quella blu Scusa Oh Cartucce del fucile Ma certo Quindi Ah questo è per dei premi Ok Ok Con quella gialla Mi da qualcos'altro Ok Benissimo Benissimo Adesso Io ripasso Piano Va Ok Proprio rasente il muro Anche Così Proprio Eh Va che si fermano Come per dire Va che ti vedo Eh Ti vedo Se fai un passo falso Io sfondo Eh Sì Eh Ok Qua proviamo l'erbicida Vediamo Usa Ok Va Adesso Coperchio Sì Sì Su quale colore Vuoi impostare E non lo so Rosso o verde Facciamo rosso E non lo so Aspetta Aspetta Vedete che c'è il tubo Però non vedo No Qui non si va C'è un cap Forse sarà rosso C'è quale dei due Va Secondo me Rosso Ah Ma vedi che ho capito Cioè Se io faccio Che ne so Verde Vado a uccidere Le piantine Ho capito Forse se faccio rosso Invece vado a uccidere I nemici Io faccio rosso Sì Rosso Ecco Hai visto Sì E così posso prendere Ah ma guarda Aspetta Fa vedere Ho due slot Allora ci prendiamo Un'erba verde Ah ma quante sono Sono due Quattro Cinque In totale Ammazza Ma cos'è La serra Questa Allora Forse Una serra Chi usa Vabbè Vabbè Sì Se no Non sarebbe serra Effettivamente Ok Maschera mortuaria E si vedeva che era una maschera Una qualcosa di morte Ok Presa Quindi Qua sarà la nostra riserva di piantine Oltre All'altra parte Dove ci sono però anche quelli rosse Va bene Va bene Fammela esaminare Maschera mortuaria Maschera mortuaria Senza occhi Era senza occhi Naso Bocca E occhi Naso Bocca Era mi pare Erano 4 Va bene Va bene Dai Allora adesso io andrei a salvare Sperando Sì però Cioè Che Che basti Se uno Distrattamente Avesse fatto Perde Sarebbe andato a uccidere Secondo me Le piante di cura Ecco Via 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 Ciao Ciao Io me ne vado Ciao Beh È stato bello No allora questi Sfondavano Appunto Avendo preso L'oggetto chiave Sfondavano adesso Ecco Vabbè Quello che dovevamo fare L'abbiamo fatto La piantina L'abbiamo presa Eh se ci devo tornare Sì Da una parte abbiamo i cani E dall'altra abbiamo i zombie Mi piacere Mi piacere Ok Vabbè Allora Io però Questa la depositerei Questa la depositerei Questa Anzi Prendiamo Il fucile Equipaggia Vabbè che posso fare anche così Ma fa niente Fammelo fare Ecco E ricarichiamo Oh Ok E no Per degli zombie Il fucile Non Vabbè Siete che faccio Sì dai Do deposito Così ho più spazio Dai va bene Prendo il nastro Salvo E proseguiamo Sì dai Sì dai Sì dai Sì dai Sì dai